Cari xiaomisti bentornati in compagnia di EvoSmart.it Oggi voglio parlare con voi che avete uno smartphone Xiaomi perché nell'ultimo periodo ad alcuni di voi utenti è comparso magicamente l'app drawer dell'applicazione e non perché utilizzate Nova Launcher assolutamente ma proprio nel launcher stock Xiaomi Come potete vedere nel mio Xiaomi Mi Note 10 non ho assolutamente l'app drawer dell'applicazione ma in questo video oggi vi mostrerò come installarlo tranquillamente in maniera gratuita all'interno di tutti i vostri smartphone Xiaomi così da andare a customizzare il vostro smartphone Xiaomi Adesso tu che usi Nova Launcher so benissimo che l'app drawer dell'applicazione sono anni che è presente all'interno del tuo launcher preferito ma se Xiaomi ancora ha questa tipologia di interfaccia e non tutti vogliono andare a customizzare il proprio smartphone il proprio device con un launcher alternativo perché magari non sanno nemmeno che cos'è un launcher alternativo secondo me scaricare un piccolo a pick up e farli contenti è una buona azione Dai ragazzi scherzi a parte se volete più video dedicati quindi piccoli tutorial sul mondo Xiaomi ma anche sul mondo smartphone Android e iOS in generale lasciate un like qua sotto e sostenete ovviamente evosmart.it magari con un'iscrizione al canale YouTube stesso Per prima cosa dovete andare in descrizione e troverete un link che vi riporta da pick up a mirror perché dobbiamo andare a scaricare l'ultima release software del launcher della MIUI così da avere finalmente l'app drawer infatti vedete lo sto facendo per la prima volta insieme a voi così lo facciamo insieme andiamo a premere su download a pick up consentiamo ok vedete è partito il download andiamo ad abilitare tutti i vari permessi al mio browser se no non posso installare launcher di sistema eccolo qua andiamo ad installarlo sto facendo tutto con voi per la prima volta così almeno andiamo a vedere passo dopo passo proprio l'installazione di questa applicazione ma è molto molto semplice ragazzi penso che oramai tutti sappiate quello che sto facendo in questo momento allora ecco qua ho installato quindi il nuovo launcher all'interno del mio smartphone allora vediamo un po' impostazioni penso sicuramente andrà abilitato qualcosa schermata home schermata home normale ecco vedete normale è la classica schermata che oramai tutti siete abituati a conoscere oppure abbiamo con cassetto app io vado a premere ok ecco qua allora mi ritrovo vabbè una home da riformare quindi dovete rimettere tutte le varie applicazioni da capo qua abbiamo tutti i vari collegamenti ok ma vedete qua nella parte inferiore abbiamo questa freccina che ci indica appunto come in android stock l'app drawer delle nostre applicazioni in più nella parte alta vedete tutte quindi tutte le applicazioni oppure comunicazione intrattenimento fotografia strumenti in pratica tutte le app sono suddivise per categoria possiamo anche andare a abilitare o disabilitare suggerimenti delle varie applicazioni possiamo anche gestire le varie categorie quindi andare a aggiungere o togliere app oppure aggiungere o togliere direttamente le categorie stesse altra chicca possiamo andare a cambiare lo sfondo del nostro app drawer quindi anche customizzabile questo launcher di xiaomi e poi barra di scorrimento vedete layout originale oppure dall'a alla z io vado a mettere dall'a alla z almeno mi ritrovo tutte le applicazioni in ordine alfabetico che lo preferisco eccolo qua poi vedete nella parte bassa possiamo anche andare a cercare le applicazioni quindi in maniera molto semplice andare a ricercare ad esempio non lo so plus messenger eccolo qua ora ho sbagliato vedete pl ci ritrova tutte le varie applicazioni che dire semplice veloce tutorial non necessita dei permessi di root non dobbiamo sbloccare niente solamente andare ad installare una apk quindi molto facile questo breve tutorial fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nel box dei commenti ripeto in molti di voi sicuramente sapevano già l'esistenza di questo piccolo trucchettino ma sono sicuro che invece molti di voi non ne erano a conoscenza oppure avevano la necessità di andare a cambiare un po' il tutto nel proprio dispositivo Xiaomi tutto lo staff di evosmart.it ragazzi anche per questo video ovviamente vi ringrazia vi saluta e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao